Ok Posso salvare, bene Sono nascosto, mi sa che sta arrivando qualcuno Sì, senti come è pesante i passi Vorrei vedere chi ama, non mi va di rifare la scena Quindi qua dietro c'è la Chica Mala Mi pare di capire Scusami Ah, devo fare una distrazione per lei ora? No Forse no Posso andare qua Ah, mi sta cercando Ciao eh Oh Oh, allora Quindi Cosa devo fare ora? Fammi vedere Sì sì, stiamo ancora qui Eh, non lo so Guarda, mi nascondo qui Ah, ma c'era qualcuno là Che era un robot di quelli Spazzino Ah sì, un robot spazzino, bene Bene Cosa devo fare? Devo sopravvivere a questo punto? Missioni Finite Quindi ora che devo fare? Devo morire qui dentro? I robot spazzini puliscono Non devo farmi vedere neanche da loro probabilmente Ma io sto tranquillo qui Boh Ah, aspetta Faccio rumore Tutto tranquillo Eh Va bene Entri passo Ok Con questo posso andare ovunque Giusto? Ma tu mi Se mi vedi succede qualcosa Ah, sì Ma nulla in realtà Poi mi hanno visto Ma appena mi sono allontanato un po' Ho detto Ma a me non me ne frega proprio niente E io me ne vado allora Se solo potessi trovare un modo per Ma Chica sta ancora lì Ma Chica Ma che cavolo fai? Ah, posso aprire? Ah Va bene Chica Quell'aria è interdetta Va bene Basta che ti levi dalle scatole E si leva anche sto robot guardia Perché devo Ok Fatto Ora sto un pochino più tranquillo Bene Ah, posso nascondermi qui? Ma che posto di nascondiglio è? Ma che è? Allora Dove devo andare però per scambiare La macchina di potenziamento? Probabilmente devo salire Ah, sì Sì, sì, sì Dunque là c'è Chica No? Non vorrei farmi vedere Se mi vede però sono cavoli Mi nascondo perché Chica sta arrivando proprio davanti a me Quindi insomma Devo stare attento, no? Beh Ora io non so dov'è sto macchinario per potenziamenti Ma penso sia Dietro una di queste porte Ok, controllo delle telecamere Ora devo capire però Se quel tipo lì Wow, 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 wow Ma quindi questo fa sto giro strano a cocifa? Non mi serve neanche a nascondermi A dire il vero Sì, quindi lui non viene qui però Ok, possiamo andare qui Ora A parte mi sa che posso nascondermi pure qui dentro Certo, certo Bene Andiamo avanti, dai Andiamo poi a trovare Un'uscita da questo posto Ma dimenticato da tutti e da tutto Che poi non ho neanche un indicatore di orario Quando sono le 6? Freddy Me lo dici, per favore? Ah, qua non ci posso andare Eh, ma qua sì, certo Qua c'è la morte Questo è potenziamento? Sì Che è? Ma stiamo scherzando? Cioè ho fatto fatica per uscire Dovevo rientrare un'altra volta? Allora Sono riuscito ad uscire Chica sta qua sopra Io devo andare all'area per regali Che si trova letteralmente davanti ai miei occhi Sì Proprio qua Però come ci entro qua? Da qua dietro? No Ah, passando per di qua Certo Come ci arrivo se no? Oh, allora Ma zunna ragazzi C'è pure questo qua che controlla Fammi vedere come posso beccarlo Boia zio Che paura Non mi ha visto? Vabbè ma sei scemo allora Scusami Vabbè Mi pare di capire che questo robot non può fare nulla Quindi Ah, posso andare avanti? Bene, bene No, la strada era praticamente vicina Ci avevo attaccata al sedere Ce l'avevo Ah, qua sotto non c'è nessuno Ah, ok Allora Vai, vai, vai Vabbè, sì allora Finito? Oh, eccomi qua Ce l'ho fatta alla fine Bene Vai Acchieriamo sta macchina del cavolo Ah, sì? Eccolo qua il nido, va Andiamo Oh, yes Dunque Ora un punto di salvataggio non mi farebbe schifo, eh Superstar Daycare Pick up this way Va bene Verrò a pick upare il mio figlio che non ho Perché c'è un coso lì che fa la guardia? Bene Non so se quelli fanno la guardia Ma penso di sì Mi fanno un po' paura Perché ti guardano con i loro occhietti indagatori Allora Ah, quella è una stazione di salvataggio Bene Salvo Salvo imprevisti Boh Che vi devo dire Non è proprio malaccio Forse una one shot è poco Per capire Perché è un'ora di gioco E penso di non essere neanche al 5% Insomma Voglio dire Usa il pass per il nido Per entrare nell'asilo nido Eh, sì Ci sono praticamente Ad ogni modo Io direi di terminare qui il video E Se proprio proprio Faccio un'altra one shot Insomma Vediamo Insomma di capire un po' di più come Andare avanti Per Perché non è proprio malaccio Mi inter... Mi sta piacendo Mi sta piacendo Poco poco Ad ogni modo Io vi ringrazio per aver seguito il video In descrizione Trovate tutti quanti I link utili E noi ci vediamo ovviamente domani Con un nuovo video Ciao Ciao